Assessore Santoro, approvata dalla giunta regionale una delibera che indica una sperimentazione per quanto riguarda la pianificazione territoriale di che si tratta? Sì diamo attuazione ad una norma che abbiamo inserito in finanziaria di finanziamento a quelle UTI che vorranno fare un progetto pilota quindi un progetto totalmente sperimentale di pianificazione d'area vasta. Oggi abbiamo approvato la convenzione tipo che sarà sottoscritta appunto tra i comuni di queste UTI che volontariamente faranno parte di questo progetto pilota e l'amministrazione regionale. È un punto molto importante perché non abbiamo ritenuto di dover partire da zero nella pianificazione d'area vasta ma di partire da tutto quel tesoro di esperienza, di previsioni, di progetti che sono nei comuni. E quindi i comuni si presenteranno a questo tavolo con i loro piani struttura e individueranno mettendoli accanto a quelli dei comuni vicino quali sono gli elementi di continuità, quali sono i piccoli elementi diciamo così di rettifica e poi quali sono gli importanti temi che saranno alla base della politica futura dell'UTI specifica. faccio un esempio molto banale se un'amministrazione comunale prevede una zona di espansione residenziale a confine con un altro comune dove invece prevede l'espansione della industria capiamo bene che c'è un problema e quindi sarà da lì dal partire dalle contraddizioni che la messa a sistema dei progetti specifici dei singoli comuni fanno emergere che nasceranno i temi sui quali gli amministratori discuteranno per capire se sarà l'area industriale a dover essere preferita oppure sarà la residenziale. In questo senso la sperimentazione è proprio aperta a raccogliere quelle che saranno le sollecitazioni del territorio a seguito di queste riflessioni. Questo per noi è importantissimo come base per la nuova legge sul governo di territorio ed area vasta che appunto non vuole essere una legge che parte da zero ma vuole raccogliere l'eredità prestigiosa che dal 1978 nella nostra regione si svolge perché siamo stati i primi ad avere un piano urbanistico regionale e quindi le nostre amministrazioni comunali hanno sempre visto la pianificazione urbanistica come uno strumento di governo del territorio e di progettazione del futuro e da lì vogliamo partire.